67esimo anniversario della lacrimazione di Maria a Siracusa. Definito il tema del 67esimo anniversario della lacrimazione della Madonna a Siracusa, un anniversario che sarà adattato tenendo conto delle regole e delle restrizioni anti-Covid. Monsignor Salvatore Papalardo, al Cerviasco di Siracusa, nel suo messaggio, ha individuato il tema generale delle celebrazioni anniversarie. Le lacrime di Maria hanno generato speranza e nuova vita di Papa Francesco. I giorni della lacrimazione saranno celebrati sul solco delle quattro nuove invocazioni da poco introdotte nelle litanie lauretane. Maria Santissima, Salute degli Infermi, Madre della Misericordia, Madre della Speranza e Soccorso dei Migranti. Proprio quest'anno i giorni anniversari della settimana del 67esimo anniversario, sabato 29, domenica 30, lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre, coincidono con quelli della lacrimazione della Madonna del 1953. Giorni di particolare grazia durante i quali sarà possibile avvicinarsi al quadretto miracoloso della Madonna delle Lacrime tramite la pedana in legno anche durante i giorni dell'anniversario, a partire dal 14 agosto fino al 1 settembre 2020. Il programma non prevede pellegrinaggi di gruppi, ma in accordo con la Basilica sarà possibile organizzare celebrazioni comunitarie nel rispetto delle regole indicate. Nei giorni precedenti all'anniversario due particolari celebrazioni saranno presedute da Monsignor Pappalardo in ringraziamento e per invocare la protezione della Madonna delle Lacrime sulle Forze dell'Ordine sabato 22 agosto 2020 e sui medici, gli infermieri e i volontari 28 agosto che si sono spesi a favore della collettività durante la pandemia. Domenica 23 agosto, al termine delle celebrazioni eucaristiche a tutti i fedeli, sarà distribuito il cotone benedetto. Il 28 agosto, a partire dalle 21 e fino all'alba del 29 agosto, sarà celebrata la lunga notte del santuario animata dai gruppi del santuario. Nei giorni 29, 30, 31 agosto e 1 settembre è confermata la Santa Messa delle ore 8 all'aperta in via Carso accanto all'abitazione dove nel 1953 per quattro giorni la Madonnina ha versato le sue lacrime. Le sante messe pomeridiane dell'anniversario saranno celebrate sul Sagrato della Cripta. Il 29 agosto presiderà la Santa Messa Sua Eccellenza Monsignor Gisana, Vescovo di Piazza Armerina. Il 30 agosto presiderà la Santa Messa Sua Eccellenza Monsignor Pappalardo, Arcivescovo di Siracusa. Il 31 agosto presiderà il Sua Eccellenza Monsignor Lorefici, Arcivescovo di Palermo. Il 1 settembre presiderà il Cardinale Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento. Il 28 agosto alle 7.30 dalla Basilica. Il 31 agosto alle 7.30 da Via degli Orti saranno trasmessi in diretta nazionale sulle frequenze di Radio Maria, il Santo Rosario e la Santa Messa.